non riesco a capire tutto questo accanimento nei confronti del Napoli e soprattutto di mister Spalletti oggi ragazzi vengo da un cinquantesimo anniversario di matrimonio le nozze d'oro di mia mamma e di mio papà quindi al calcio alla Serie A non ci ho minimamente pensato ma adesso mi sono messo un attimo sul letto sono le nove non ho cenato ovviamente perché a pranzo mi sono mangiato questo mondo e quell'altro e ho letto di questa notizia sul mio smartphone che Spalletti è stato pesantemente insultato ma andremo ad argomentarlo ragazzi intanto fatevi salutare dal vostro Enrico Caffarelli che mi invita a supportare questo video con un bel like con una iscrizione se ancora non l'hai fatto e con una attivazione della campanellina ragazzi però fatevi abbracciare a tutti quanti perché non pensavo minimamente che questo canale avesse così tanto seguito vi ringrazio a tutti vi vorrei proprio abbracciare forte 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 spero che accogliate questo mio tenero abbraccio anche se non è fisico però ve lo do proprio volentieri e per questo vi faccio anche vi rendo partecipi della cerimonia di quest'oggi con questi piccoli filmati spero che vi piacciano giusto per entrare anche nella mia parte più intima nella mia privacy guardateli un video con la sposa tanti auguri mamma grazie tantissimi auguri vai scendiamo vai scendiamo ti accompagno dai piano 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 ti fanno gli auguri anche i miei amici e le mie amiche grazie grazie sono molto emozionata però sono contenta auguri tantissimi auguri è un video anche con lo sposo tanti auguri eh cosa ci dici ti fanno gli auguri anche i miei amici e le mie amiche grazie sono contento sei contento? sei emozionato? sì sì tanti auguri dai sono passati 50 anni eh vabbè dai ne passeranno altri 50 magari basta basta ma non ti tocca i capelli ma ora si pulisce auguri auguri visto mia mamma e mio papà mamma mia quanto gli voglio bene poi oggi come oggi non è mai facile arrivare a 50 anni di matrimonio soprattutto per chi come loro si sono sposati molto giovani giovanissimi erano papà Massimo e mamma Aurelia vi amo tantissimo ma veniamo alla notizia che mi ha fatto sorbazzare dal letto praticamente Landucci il vice allenatore della Juventus è stato sanzionato per un turno di squalifica e 5.000 euro per avere detto al mister del Napoli queste testuali parole pelato DM che non ripeterò perché a me dà fastidio e non poco essendo anche io purtroppo pelato come Spalletti io diciamo ci ho fatto l'abitudine sia su TikTok che su Instagram ormai non ci faccio più caso però non so Spalletti se possa essere diciamo colpito da questa ingiuria così pesante ma la cosa più brutta è stata ti mangio il cuore Landucci ma che sei Hannibal Lecter ma come state? come state? ma si possono dire queste frasi ancora nel 2023 ragazzi? pelato DM ti mangio il cuore io non riesco proprio a capire tutto questo nervosismo degli giuventini anche Allegri se n'è andato a fine partita anzi prima che finisse la partita a presa se n'è andato ragazzi il Napoli ha meritato di vincere ma perché non siete sportivi onesti? io quando la Roma ha perso contro il Napoli che Mourinho ha detto non meritavamo di perdere se vi andate a guardare il video ho detto Mourinho ti stai sbagliando perché la Roma ha meritato di perdere contro il Napoli sia all'andata che nel ritorno ma non ci vuole tanto a dirlo ragazzi ma perché? perché ci deve essere questo astio? perché io non riesco a capire ancora magari i tifosi li posso anche capire che sono faziosi ovviamente anche se io non sono così magari a volte posso essere anche fazioso però spero di non esserlo il più delle volte ma questi sono dirigenti sono allenatori sono frasi pesanti frasi pesanti che all'occhio di una persona possono dare fastidio e potevano anche innescare un battibecco molto brutto perché anche Spalletti lo conosciamo bene io lo conosco bene qui a Roma non se le manda a dire non è un farlocco Spalletti quindi Landucci ha rischiato pure perché Spalletti non è uno sprovveduto io purtroppo purtroppo o per fortuna ancora stravedo per questo allenatore perché quando stava alla Roma la faceva giocare una meraviglia ha avuto soltanto quel battibecco con Totti che poi adesso diciamo è finito da tarra luce e vino credo che si incontrino pure per fare la pace per darsi la mano e ovviamente Totti era a fine carriera e Spalletti era stato preso da poco quindi lui voleva giocare Spalletti lo voleva centilinare è nato quello che è nato ma è storia a me Spalletti è sempre piaciuto e sempre piacerà potete andare a guardare i miei video a ritrosi se vi sto dicendo una bugia perciò Landucci mio stai tranquillo perché hai perso basta è inutile che gli dici queste parole a Spalletti ti mangi il cuore ma che mangi? ma che sei il brasiliano quello che ha fatto quel video che al poliziotto gli diceva ti mangio il cuore tu sei un dirigente un alto logato il vice allenatore di una delle squadre più importanti d'Europa o del mondo almeno per Plasone perciò non si possono fare queste figure dopo che l'ha fatta Gatti una figuraccia clamorosa che ha dato un cazzotto sulla tempia con la scheglia ho fatto il video a riguardo e quindi non parlerò di nuovo quadrato che ha simulato che si è andato a gettare sulle gambe del difensore del Napoli e pochi altri mi scordo qualcos'altro Allegri che prende e se ne va prima che finisca la partita Landucci che dice mi ti mangio il cuore a Spalletti pelato di M basta ragazzi avete meritato di perdere contro il Napoli non c'è storia non c'è storia ve lo dice un romanista al di sopra delle parti lascia un like a questo video per supportarlo iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto seguimi su Instagram a proposito seguitemi su Instagram per andare a vedere anche le foto e i video di questa giornata del cinquantesimo del cinquantesimo anniversario di matrimonio di mia mamma e di mio papà se vi fa piacere ho fatto qualche foto così almeno potete vedere anche la mia famiglia se vi fa piacere perché ormai penso di essere un vostro amico molto diciamo sento questa cosa la percepisco e quindi se vi fa piacere andate a guardare le foto le storie e tutto quello che volete sul mio account Instagram che è libero non dovete chiedere nessuna nessun nessun avviso non c'è è libero è profilo pubblico quindi mettete segui senza problemi ragazzi sto parlando un po' troppo oggi sono un po' un po' stanco devo dire non lo volevo fare oggi questo video però dai dato che ho condiviso queste belle immagini di mia mamma e di mio papà non ce la faccio più a parlare però non taglio niente vi invito a guardarli anche su Instagram grazie a tutti per l'iscrizione ragazzi vi voglio bene mamma mia sto video ho fatto un macello però va bene anche così ma chi se ne frega ciao